Nella città della Coralità, del Polifonico e della Giostra del Saracino, l'Associazione degli Sbandieratori di Arezzo e l'Associazione Voci in Canto si sono unite per omaggiare tutti gli aretini con un evento unico, musica bandiere e voci in pieve. Non un semplice concerto ma una performance artistica itinerante nella splendida cornice di Santa Maria della Pieve. Ormai per la quarta edizione il dono di Natale degli Sbandieratori viene fatto attraverso questa serata in cui il movimento delle bandiere si sposa, direi alla perfezione, con la musica non solo delle nostre strumentazioni tradizionali, quindi trombe e tamburi, ma affiancandoci ad un coro. Siamo felicissimi anche quest'anno di poter iniziare la festa del Natale insieme agli sbandieratori. Per noi è un appuntamento veramente molto importante a cui ci teniamo tanto, è un momento veramente in cui si vive la città, la tradizione di Arezzo insieme ai nostri ragazzi, quindi è sempre pieno di emozione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.